La nuova Espace prevede un'illuminazione con luci a LED su tutte le versioni, più efficaci del 20% rispetto alle classiche luci alogene. Questa tecnologia a lunga durata non prevede la sostituzione delle lampadine. È possibile sostituire solo le lampadine degli indicatori di direzione. Accedere al portalampada dalla parte inferiore del veicolo, allentare le viti, sganciare la lampadina e sostituirla tipo PY21W.